buongiorno amici buongiorno dove stiamo andando amici al nuovo sentiero il fiume di lava il fiume di lava l'ultima eruzione del 44 potesse che la ci iberniamo pure noi va bene ci dobbiamo tanti pensieri dalla testa c'è l'occhio chi ci prova a metà la teoria dopo ci vediamo all'occhio no non si chiama all osservatorio non si chiama no ma la Siamo arrivati all'osservatorio, non hanno preso un po' di merda, non vediamo come farsi. Salutate ragazzi, salutate. Buongiorno. Non puoi mai sapere, Lello, perché se vogliono tenere un problema, secondo me queste cose che aiutano lo sport si fanno sempre bene. Guarda una discarica delle piazze e merda, non lo hanno fatto. Vai a me. Vai, è tutto munnezzo. Poi fanno nato vai su io. È munnezzo. Perché è munnezzo da Luigi andare a cercare il bordo. Perché Luigi è una mappina, l'amico nostro che bene la bicicletta. Eh, a cercare la macchina. Se fa un trombettiere e poi non lo rispetta la nativa. Allora, secondo me, la ritorno delle persone che conoscete, sono l'unico... L'unico green, è green e dolce. E vengono le plastiche di plastica e le fai riciclati. Ti danno in mezzo. Però sono una macchina. Seduta lelean le太 Corta malandana Salincella Poi che si mette la fang, ora non c'è mai fuori Posso passare se mi fai a rocciagliare? Goste è rato, vai giù e però così mi fate a recettare oh mamma mia, io devo prescindere ah no, sentite ma ora ti spiego una cosa dici dici dimmi da qua tu sali dal capriccio e non si può proprio fare ma infatti sta a destra a qua tu sali ma è pochissimo arriva a Rosato, sei la e ci potevamo pure tornare perché è fennuto non ci potevamo ah no, hai sai che zanno sai che c'è sai che c'è non c'è, non c'è non c'è, non c'è non c'è non c'è non c'è ah 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 cia carlo venghi venghi no cia carlo di torno se la fai con la bicicletta mi piace come un parmigiano Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, 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 vai uno spettacolo lello è bella spettacolo spettacolare ecco lui va la bicicletta ascoltate alberto angela signori allora mamma scenerà qua guarda di qua c'è il sentiero vedi il sentiero e non vedi la roccia ma che aspettando io ho preso paura si va a piedi famiglia madre io ho carri armati ho carri armati ma c'è stato di coppa a tutti i preti zarrà lante oh uhuuuuhhhh ohuuuuhhh ouuuhhhhhh Ho ma dispagando forXiva lo Uhhhh Oh! Ah! C'è ben già neccolo, è giù un sailo C'è finesse da la nuova e non dici che è una fine, che è stata distrutta già, vai! però non dico, sta dritta adesso che sennò io non mi rendo conto vai questa casa però guarda, rispetto a quello che ci hanno fatto questo è signore ma quello che ci hanno fatto è proprio forse ma quello che vuoi salire? la valle dell'inferno, che poi siamo saliti alla biglietteria non si fa scendere si, si, la faccio scendere ma la faccio scendere tu faccio darmi il corso di sempre non mi cambia stavo andando, stavo andando, non lo vedo si, si bravo stanno le luci rossi vedo che ho fatto la camera si, si, si tiene il corno ancora qui e qui il corno capruzzo è il capruzzo e tu non la faccio, il coppacchino la faccio prendere un segnere per il ritmo ma non sto ora non ci hanno fatto le fotografie e come la fai a passare la giura con la bicicletta? no, scivola, è povero non è? no, 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 no io l'ho detto, questa è una cosa di a pelle e a manoviglio per a manoviglio si fanno scendere queste cose? no, io sfido pure il più allenato a fare queste cose è assurdo si scivola, si scivola prima tratta ancora meglio, stanno messo in giro ma poi io ci stanno in ruota per la polvere, per la sabbia la bufang il merò di margiolino Pasquale! guardami! e che lo hai dato quando? sono sempre più convinto che questo scuotino fa per me ma quando mai? non capisco perché dici questo non capisco perché dici questo che fu di favore? ma? non ho canzato io ma che li spiega davanti? c'è la cima non 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 c'è la cima ma accettate va sotto ma lo portammi capite che posti che natura che ti facciamo vedere e visto qua possiamo anche fare un picnic avete portato cosa da mangiare ma è pedalabile vai oh Grazie a tutti. Carlo, troppo fino al negozio. Dopo, fino al negozio? Sì. E io metto il computer e la telecamera. E facciamo i video. Ma Pasquale, non lo so, l'ultima discesa che ci ha avuto, è una penultima tirata a roti. Eh, ma infatti, oggi mi stanno andando a me. Cammino, cammino, perché i roti, i roti, i tuoi freni tiranno. La penultima, prima che ci hanno usato, davvero, siamo venuti a prenderlo. La penultima, quando siamo a ottenere i tornati. La penultima, la penultima, la penultima, la penultima. La penultima, la penultima, la penultima, la penultima. La penultima, la penultima, la penultima, la penultima. La penultima, 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 la questo ci ha mancato più ma noi ci siamo tanto però vai speriamo aaaaaaaah ma già frusta non sto frustando mi ci nemmeno che devi piantare ma già frusta non è no 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 nemmeno non è no non è no non è niente non è no Ciao Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.